ciao a tutti ragazzi nuovo video ma nuovo gioco ci prendiamo un attimo una pausa da fifa perché konami ha rilasciato qualche giorno fa forse qualcuno in più però a causa covid non me ne sono accorto ha rilasciato sul psn yugioh master duel io forse voi non lo sapete ma io sono uno dei primi yugituber in italia che avevo fondato con dei ragazzi il dark desire team abbiamo fatto una marea di video io e mia moglie effettivamente abbiamo un buon seguito vedere yugioh dopo tanti anni qui non ci metto mano è davvero strano è quasi emozionante quindi niente andiamo a provarlo ho giocato un po giusto per capire come funziona il tutto però alla fine è alla fine il gioco è quello nel senso hanno dove l'ho arrivato io ero arrivato ai pendulum non ho poi ho smesso di giocare sono passati un bel po di anni però a quanto pare hanno aggiunto solamente i link che devo capire un attimo le meccaniche però allora ho giocato un pochettino giusto per capire come come funziona andi a questo primo video è giusto per andare a fare una panoramica su com'è il gioco su cosa si può fare e come funziona in effetti allora come vedete duel è la modalità online quindi qui una volta che avete fatto il deck vi buttate online e sfidate la gente ci sono varie sezioni dove si può andare a vedere come giocare vedete questa rucchi ho fatto una partita ho preso legnate ma era una prova quindi niente di anomalo pareta casuale poi ci sono gli eventi ufficiali questa cosa mi solletica tantissimi sono un fan incredibile di yugi assolutamente poi abbiamo deck ovviamente è il deck io giocando ho raccolto un po di deck in questo momento ho fatto qualche structure deck ho comprato qualcosina non ho speso ancora euro sto usando solamente la moneta in game che ho raccolto che si raccoglie nella modalità solo questa qui è tipo lo story mode è una sorta di story mode dove si va a fare determinate prove determinate partite battaglie eccetera e il gioco ti dà delle delle sfere per poi a andare poi a affrontare le modalità e appunto la moneta in game come funziona il tutto poi quella parte di shopping diciamo di creazione delle carte ci sono alcune cose interessanti allora noi possiamo andare a comprare le carte quindi direttamente qua acquistano le bustine allora qua ci sono le buste structure deck accessori vabbè chi se ne frega e questo quel pass devo capire come funziona perché lo stavo leggendo però 68 giorni 600 gem le 600 gem appunto sono le monete in game che mi ha derroppato un casino a voi non le avete adesso aspettate che tolgo la tolgo il mio video un attimo solo così almeno avete idea di cosa sto dicendo qui in alto vedete che ci sono queste gemme si possono aggiungere comprandole come su fifa come su tanti altri giochi come su genshin eccetera però possono essere sbloccate utilizzando facendo le missioni appunto quello che dicevo prima e molto probabilmente anche negli eventi speciali ci saranno delle gemme in palio però devo ancora andare a capire un po di meccaniche la cosa che interessante di questo gioco è che non è che è completamente lasciato al caso perché facciamo una cosa avevo comprato un po di bustino ho preso un po di buste io ho raggranellato praticamente andiamo su deck così vi faccio vedere questa questa meccanica questo è il deck iniziale che ti dà all'inizio appunto sono all'iniziale allora vedete che io lo stardust dragon non l'ho sbustato il dragon poverdi stelle l'ho praticamente craftato come si fa a craftare le carte ma allora andando vedete qui in alto che ci sono queste monete cpn cpr cpsr eccetera sono tutte delle sorte di piccole monete in game che permettono di andare a craftare delle delle cose delle carte allora ne prendiamo una a caso cerchiamo una non so una carta che all'epoca utilizzavamo il dragon poverdi stelle l'ho già usato il dragon il dragon bianco occhi blu dai a caso proprio completamente drago il dragon bianco grande seto caiba nella prima stagione questa bellissima ragazzi eccoci qua qua ci sono tutte le carte drago bianco eccetera eccolo qua seto caiba eccolo qua prendiamolo questo qua drago bianco occhi blu il più classico premiamo l2 ci da questo menu dedicato alla carta vedete che qua in basso c'è genera perfetto io posso come se comprassi la carta in un negozio singola sfusa potrei posso andare a spendere 30 di queste monete che avete qua in alto che ne ho 70 perché ho fatto una prova sullo stardust dragon e me l'ha creato effettivamente così mi va a craftare questa carta quindi cosa succede non ho una carta la cerco tra che la posso craftare comodissimo al contempo funziona anche al contrario adesso se prendo una a caso non lo faccio vediamo sto leotauro vedete che mi dice genera generale sempre lui si possono andare a anche smontare le carte nel senso si possono andare a scartare come in fifa ad esempio le carte e avere appunto dei della moneta non so cosa sto combinando ma va bene così si può andare proprio a smontare le carte e avere la moneta in game per andare a fare questo questo giro per andare a comprarci quelle carte che vogliamo quindi tutto tramite il tasto l2 ragazzi si apre il tasto della carta off ce l'ho fatta si apre vedete qua non si può smontare ci sono però alcune carte che si possono fare quindi bisogna andare a un po' a guardare quali sono comunque funziona così vediamo utopia l'ho comprato mi pare no andiamo sullo stardust dragon se posso eccolo qua vedete che lo stardust dragon è una carta che ho composto che l'ho generato però volendo posso anche scomporlo e farmi ridare indietro 10 di queste di queste gemme mettiamola così ovvio che generarlo costa 30 ricomporlo cioè scomporlo costa 10 non conviene conviene appunto fare queste cose ci sono tanti fan del gioco come me e secondo me ci sarà da ridere sicuramente nella creazione dei deck è un po' tanto che non gioco sono rimasto abbastanza indietro con le espansioni quindi fino a ripeto fino ai pendulino fino alle meccaniche le conosco i link devo ho letto un po' come funziona c'è capita una sega però vabbè penso che sicuramente non sarà così complicato però ho visto un deck girare di prova e non è assolutamente male anche la meccanica dei link quindi sicuramente interessante banda alle ciance come funziona la partita allora poi ovviamente una cosa al volo ragazzi giusto vi tolgo un attimo il mio video qua in alto vedete che c'è missioni queste qua sono le missioni giornaliere le missioni che possono essere possono essere portate a termine per avere le gemme qui ne ho fatte qualcuna vedi che ho scomposto ho preso mi da un po' di gemme insomma scomponi una carta 50 sr devo scomporre ora poi credo ne una ne da un'altra insomma è tutto così è tutta si può non shoppare per avere un sacco di comunque di queste gemme di questi ticket anche per questi ticket servono per andare a comprare altre cose insomma è proprio un sistema da andare a approfondire poi logico volete spendere i soldi vi spendete perché si può fare assolutamente il duel pass secondo me è interessante però poi lo vedrò allora vediamo un duello proprio a caso vediamo un duello al volo no non questo online no perché mi mazzolano vi faccio vedere la parte in solo eccolo qua questo è lo story mode un duello un ruin the maze questo qui è praticamente lo story mode si compone di determinate cose lo scenario è quando viene caratterizzato il tutto quindi vi fanno vedere i personaggi vi raccontano un po' la storiella eccetera allenamento allenamento vi mette un premio da mettere quando superate la prova in questo momento vi da un deck il gioco per andare a capire le meccaniche poi è logico che si può andare a fare la sfida con il deck personale quindi nello step successivo vi faccio vedere questa prova che solitamente è molto molto easy per farvi vedere appunto come funziona il tutto questo è praticamente una sorta di tipologia di carta che si chiamano rituali hanno fondo blu sono nell'extra deck e vanno a essere evocati tramite delle carte magia ad hoc poi bisogna studiarsene tutte ragazzi il trucco per giocare bene a Yugi come qualsiasi trading card game è conoscere a mena dito tutte le carte del gioco quindi vediamo un attimino qui il gioco il primo giro che ci fa fare ovviamente è tutto guidato in questo momento perché è il tutorial però ovviamente le meccaniche sono queste attiva a fine del mondo evoca tramite rituale vabbè ok tramite rituale perfetto attiviamo a fine del mondo è una carta magia terreno no non è vero è una carta magia normale l'ho convinto fosse magia terreno e ci fa evocare la regina dell'oblio andando poi a pagare il tributo tutte queste cose non le sto adesso non ne parlo ne parleremo con la serie di video perché Yugi Ho ha un sacco un sacco un sacco di regole sotto regole è bello per quello molto bello poi il bello di giocare online ho evocato ok perfetto il bello di giocare in questa maniera che è abbastanza guidato è che non ti subisci le trassate praticamente che ti subivi quando giocavi dal vivo quindi questo è molto comodo molto adesso vedo anche i magic che sta un po' di tempo che sta andando allora battle phase non vi raccomando non vado a raccontarvi il tutto poi il gioco ve le racconta quindi poi le andremo poi a spacchettare insieme questo è proprio il menu di gioco questo attiviamo l'effetto si lo sto neanche leggendo perché tanto è il tutorial attacchiamo e picchiamo e finiamo no pensavo termine il tuo turno ok pensavo fosse finito qui andiamo inendo ok questo è praticamente appunto l'interfaccia di gioco la cpu sta pescando ah vabbè gliela spacchiamo quella ok ah demis il re dell'armageddon quanti ricordi ragazzi non posso taccare in questo momento perché c'è spada liberatrice quindi attiva ciclo del mondo e via mettiamo giù ciclo del mondo e andiamo a evocare demis vai con un bel tributone quando entra demis dell'armageddon mamma mia che bomba ragazzi beh evocato tramite il rituale pagano 2000 lp distruggito le carri sul terreno e quindi spacca tutto paghiamo 2000 life points spacchiamo tutto e chiudiamo lo scenario praticamente perfetto la partita finisce così bello l'effetto visivo assolutamente questo è praticamente come si svolge una partita in questo video non vado a approfondire ovviamente le meccaniche però era solo per farvi vedere come funziona il tutto e fare una macro panoramica della situazione mi ha dato 150 sfere oscurità queste sfere oscurità servono come le altre sfere per andare a sbloccare tutti i vari episodi di questo story game di questa modalità quindi ragazzi torniamo in regia vi ho fatto vedere più o meno velocemente il menu come funziona eccetera yunkio è un gioco che mi piace tantissimo sicuramente lo seguirò non da pazzi magari come come am magari come fifa eccetera però sicuramente è un gioco che mi interessa lo porterò sicuramente fatemi osservare nei commenti se è un gioco che avete fatto da ragazzi se vi piace se lo state seguendo se non lo seguite cosa ne pensate e nel caso magari non ho ancora non ho visto come si fa a fare l'uno contro uno tra amici però ho visto che c'è la funzione amici quindi sicuramente andremo a sfruttare se qualcuno vuole farsi qualche sfida capiamo come funziona ce la facciamo tutti insieme ragazzi solito mi stavo impastando ragazzi solito follow il canale youtube mi piace al video e ciao a tutti e al prossimo filmato ciao ciao ciao